Si è tenuto ieri sera il tradizionale scambio di auguri presso la protezione civile di Battipaglia diretta da Michele Mattia, un'occasione per tracciare un bilancio dell'anno appena trascorso. Presente anche il vice sindaco Stefano Romano. Nel 2018 l'ha vista impegnata in oltre 500 interventi di tipo di prevenzione. Tutto ciò che riguarda quelle attività di presidio del territorio, durante le allerta meteo o le numerose manifestazioni, naturalmente in supporto agli enti preposti. Ma numerosissime sono state anche le occasioni che hanno visto i volontari impegnati in emergenze. emergenze non solo sul territorio comunale, ma anche a seguito di attivazione da parte della sala operativa regionale. Noi siamo qui questa sera, oltre a fare una rendicontazione del 2018 e quindi poi migliorarci sempre di più nel proseguo delle nostre attività, anche per incontrare i numerosi sponsor che sono stati vicini alle nostre attività, che hanno bisogno sempre di attrezzature al fine di poter operare. Oltre che all'amministrazione che ci sta vicino negli acquisti e nelle attività più cospicue, incontreremo anche le numerosissime associazioni di volontariato che ci affiancono nelle attività che svolgiamo e che vengono svolte in sinergia. Ai ragazzi della protezione civile innanzitutto diremo grazie, grazie per quello che avete fatto in passato e grazie soprattutto per quello che farete in futuro. Grazie per essere sempre presenti ovunque, nelle calamità, ad uscire la notte, quando piove, quando c'è l'allerta medio, quando i ragazzi volontari, ricordiamo stiamo parlando sempre di volontari, escono la notte per salvaguardare la nostra vita e le nostre cose, le nostre case. Quindi grazie di tutto e un auguro speciale per il vecchio anno e per il nuovo anno e soprattutto per il Natale.